buongiorno a tutti che shot pazzesco ci siamo presi ieri pomeriggio cosa abbiamo visto abbiamo visto che sia qui sul dax c'è stata una violazione in ventesima barra quindi si poteva tranquillamente entrare rimbalzo giusto per spaventare chi era entrato e quindi non chiusura in ventunesima del nostro secondo t meno 3 vincolato ribasso risalita e poi schianto schianto che noi ci siamo portati a casa in trailing mettendo stop sopra i massimi e continuando a seguire la discesa fino a che prima della chiusura non ci siamo portati a casa tanto veramente tanto perché siamo passati dai abbiamo detto 15 mila 842 fino a questa zona qua 15 mila 724 quindi 120 punti di dax chi ha fatto lo stesso su mib e su mib era ancora più preferibile nella realtà dei fatti violazione in prima eccola qua in sedicesima barra ancora più facile rimbalzo e poi discesa anche qui si è portato a casa la differenza tra i 27 0 60 e ha venduto sui minimi non è che ci sia molto da da raccontarsi perché è una di quelle operazioni in cui in cui si si guadagna decisamente bene 623 appunto dai 27 mila 81 crollo letteralmente un crollo e il mib sta facendo molta più fatica fatica del dax come state vedendo per cui con una sola operazione quanto ci si è ripagato di quello che il gruppo premium e peraltro nel gruppo premium si impara a fare trading è come se con un'operazione ci si pagasse la formazione è una di quelle cose che quando quando le persone venivano ancora ai corsi quando li tenevo mi stupiva mi dicevano sì sì il corso costa al suo costo assolutamente però io me lo sono già guadagnato con il trading seguendo quello che sono le tue indicazioni e studiando per cui bello è una delle cose che mi mi piace di più di questo lavoro riuscire a tutelare le persone dare loro degli strumenti per riuscire a cavalcare questi mercati che continuano a fare finta rialzo finta ribasso figuriamoci su dax finta rialzo finta ribasso ma torniamo a noi ok che cosa si poteva fare di aggiunta oltre a uno short su entrambi i mercati che ha pagato estremamente bene si poteva fare anche un altro ragionamento ma vedo che probabilmente in pochi l'hanno fatto qui siamo arrivati a sul mib 10 bar sul massimo 11 qui un long in apertura si poteva fare ok almeno provare partenza stop stretto sotto questo minimo e via lasciamo andare staremo ancora in trail perché sposteremo piano piano in trailing il nostro il nostro movimento che cosa facciamo oggi beh su mib come avete appena visto vediamo quando ripiega si ha la forza per superare il massimo che farà con questa salita perché perché in questo modo sapremmo uno se si crea un vincolo d'inverso perché qui siamo a teoricamente 36 barre può essersi chiuso prima l'inverso a 25 qui hai messi ok quindi potrebbe essere già ripartito il sesto t-3 mettiamolo per aiutarci quindi attenzione a questa possibilità ma se non fosse se non si fosse già chiuso qui con pochi margini ma comunque con il tempo probabilmente necessario li controlleremo appena inizierà a mollare crea il solito anellino au ok farà così se rimarrà sotto il massimo per un tot di tempo e poi andrà in violazione rialzo noi ovviamente andremo long almeno all'inizio di un possibile nuovo t settimanale oppure t più due t più due ok anche se fosse il quinto t settimanale di questo di questo mensile del primo mensile di questo trimestrale è un tentativo se c'è un vincolo facciamolo poi attenzione perché sembra tanto che è vero dovremmo traslare un po' più in alto il grafico tutto quello che volete ma sembra tanto che il MIB stia anticipando di nuovo DAX e tutti gli altri vedete anche qui rimbalzo vediamo dove arriva e su DAX possiamo avere delle delle aggiunte in più a parte che qui devo andare a rivedere comunque la centratura perché il t settimanale può essere partito da qui ma ognuno se la vado a poi a ricontrollare qui siamo a 24 barre ok da questo massimo a qui siamo a anzi a 25 barre anche qui oppure siamo a 38 e stiamo per chiudere perché qui è più semplice vedere che c'è la possibilità che si sia già chiuso ok un secondo t-3 inverso per questo motivo occhio perché da una parte ecco scusate occhio perché da una parte possiamo avere vincoli rialzisti se l'inverso si vincola a ribasso mentre invece esattamente il contrario se non c'è il vincolo e se siamo in chiusura di primo t-3 inverso quindi noi andremo a valutare quello in base a quello ovviamente ci muoveremo certo anche in questo caso attenzione a quanto siamo arrivati di t settimanale precedente che potrebbe aver chiuso qui ripeto questa centratura è da rivedere potrebbe aver chiuso qui partenza nuovo settimanale vediamo cosa farà dopo la chiusura del primo t-2 ciclo due giorni il resto del movimento ok direi che è tutto vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la nostra lo sarà sicuramente perché dopo aver portato così tanto fiene in cascina ieri siamo molto felici davvero arrivederci